Ci è mancato solo il gol, ci è mancato un pizzico di cattiveria in più sottoporta però anche loro si sono mangiati 1-2 quindi è stata una bella partita, giocata alla pari da due grandi squadre e niente, siamo felici per come abbiamo reagito dopo la sconfitta a Bodo e questa era stata giusta Soprattutto in questa settimana che sta per iniziare con altrettanti due partite importanti Certo, sono tutte importanti, che si chiama Venezia, che si chiama Inter sono tutte importanti, valgono tutte e tre punti quindi noi andiamo a Cagliari ora per fare tre punti e poi domenica c'è il Milan e bisogna vincere anche col Milan